nessun errore, è il terzo posto per lui ma comunque seconda manche assicurata grazie alle zero penalità davvero una buona gara, ora è la volta in sella a Fix Design Chopin, lui è il campione d'Italia Young Rider in carica, medaglia di bronzo a squadra nel campionato d'Europa 2014 ad Arezzo qualche settimana fa, Filippo Bologni Grazie a tutti 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 Grazie a tutti